Siamo partiti da qua 1 2 3 quindi siamo scesi siamo qua guarda giù a destra dovremmo andare dovremmo essere qui vedi che qua c'è tutta qua c'è tutta una specie di pianura dovrebbe essere qua sotto squadra 1 chiede luci verde passo ok mi apri? ci siamo? facciamo già le file ok raga dai ok si spera vedo 1 2 magliatta gialla che ha una valigia sulla nostra strada a 100 metri abbiamo trovato due tango e uno terzo con la pettorina gialla con una valigetta crediamo che sia una bushabaloo chiamo i ragazzi intanto non ci siamo tutti non ci siamo tutti allora secondo me ci sono due tango e un terzo con la pettorina gialla con una valigetta crediamo sia a bush dieci minuti ragazzi ci mancano sì dobbiamo andare allora la mia idea è squadra 1 sinistra squadra 2 qua sulla destra squadra 2 sarà appunto più aperta ma deve rompere il cazzo allora squadra 1 strada squadra 2 qua sopra andiamo veloci ma ci manca poco andiamo veloci mi sto muovendo sulla strada ripeto Gabriel mi sto muovendo sulla squadra con squadra 1 squadra 2 va sulla destra cerca di rompere il cazzo ok andiamo vai 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 dove cazzò è PER-1 ricarico ok ok, preso, non l'ha preso è l'americano o il talebano quello? Gabri, americano o talebano? fermi, fermi tutti o tutti o niente? vai apri guarda prima intorno siete scesi bene, bravi questa sì, non me l'aspettavo sembra buona tiro tiro tu dici che fa scattare porca appunto morti morti attra 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 attra